Tre progetti, tanti dubbi. Fra i consiglieri comunali c'è già dibattito sulla scelta migliore per sbloccare il cantiere del tunnel di San Girolamo. La prima ipotesi proposta da ANAS prevede uno scavo lungo il tracciato del progetto originario della provincia, la seconda l'impiego di una talpa meccanica e la terza un tracciato più lungo unito alla tecnica di scavo tradizionale. Sulle proposte il confronto è aperto. Secondo me per essere lungimiranti partire subito e avere le idee chiare in testa. Io dal mio punto di vista torno a dire non butterei via il bambino con l'acqua sporca, starei sul primo tracciato come opzione prevalente, non escludo il secondo ma solo ed esclusivamente se c'è copertura di spesa immediata. Allora con la copertura di spesa immediata e con l'uso della tecnologia della talpa, questa sarebbe un'opzione assolutamente praticabile e condivisibile da parte mia. È chiaro che soluzioni come la 1 e la 3 sarebbero decisamente problematiche per noi, perché comunque andremo evidentemente a generare un'area di cantiere su un'area che già di per sé è interessata, come si diceva, dai lavori del quarto ponte e anche da un ipotetico progetto di riqualificazione del Bione. E questo sarebbe un grosso disagio. Ma in più aggiungo anche il fatto che la distanza che c'è comunque tra il cantiere e l'area di cantiere e poi dove verrebbero trattati i materiali di scavo non è comunque una distanza da poco. Si tratterebbe comunque di ipotizzare una viabilità che verrebbe in ogni caso un pochino aggravata dalla presenza di mezzi che dovrebbero spostarsi poi dall'ingresso della galleria sostanzialmente fino all'area del Bione in un contesto viabilistico che è già abbastanza compromesso. Tra i pochi io non sono un ingegnere, non so dire qual è la migliore. Mi viene da dire una cosa, quella che crea meno disagio a chi ci abita sopra. L'unico criterio che mi pare abbia un po' di oggettività. Milione più, milione meno. Noi stiamo parlando di una cifra che va in preventivo, è 230 e 290 milioni per due chilometri di strada. A me pare, non sono un ingegnere, ma una bestemmia. 290 milioni per due chilometri. Io non lo so, ripeto, non sono un esperto, però mi sembrano cifre e parliamo dei preventivi. Poi vediamo alla fine cosa succede.